Mi aspetto di arrivare in fondo, ti dico è da quando ho l'età di 4 anni che trucco e pettino le mie bamboline adesso ho la possibilità finalmente di poter dimostrare al grande pubblico, spero di poter arrivare fino in fondo sicuramente migliorato perché sicuramente imparerò sempre qualcosa di nuovo la mia filosofia di vita non si smette mai di imparare, penso di vincere molto felice perché sono riuscito a far capire, ad esprimere quello che volevo ottenere spero di aver trasmesso questo, più che il mio lavoro, più che la mia professione a livello tecnico che è quello che so fare, ma volevo proprio trasmettere qualcosa di diverso ascoltando gli insegnamenti che ho avuti in questi giorni, spero di essere riuscito a fare questo io vorrei vivere qua, ho detto tutto, mi sto divertendo, ho conosciuto un sacco di gente, è bello, è bello sono arrivato in ogni caso sulle stelle, come ho detto, puntate sulla luna ma in mezzo alle stelle ci sono già spero di arrivare anche sulla luna